Ti sei mai chiesto quale impatto potrebbe avere un ETF Ethereum approvato sui prezzi delle criptovalute? Ciao a tutti e benvenuti al nostro canale dedicato al mondo delle criptovalute. Qui troverete aggiornamenti di mercato, recensioni di progetti e consigli per aiutarvi a prendere decisioni informate nel mondo delle criptovalute. Vi invito a seguirmi al canale per essere sempre aggiornati. Questa domanda è cruciale nel contesto attuale, in cui le regolamentazioni stanno diventando sempre più stringenti. Oggi esploreremo le novità su Ethereum, Solana, Polkadot e Chainlink, cercando di capire come potrebbero influenzare il mercato delle criptovalute. Preparatevi per un'analisi dettagliata che vi aiuterà a navigare meglio in questo mondo in continua evoluzione. Gli ETF, Exchange Traded Fund, rappresentano un punto di svolta per le criptovalute, in quanto offrono alle istituzioni un accesso più facile e regolamentato per investire in questi asset. Recentemente, c'è stata molta attesa riguardo all'approvazione di un ETF per Ethereum. Secondo le ultime informazioni, la Stati Uniti SEC, Securities and Exchange Commission, ha richiesto la presentazione di documenti rivisti entro l'8 luglio. Anche se l'approvazione dell'ETF potrebbe subire ritardi a causa delle festività negli Stati Uniti, si prevede che avverrà presto. Il lancio di un ETF Ethereum è significativo perché potrebbe catalizzare enormi afflussi di capitali istituzionali, facilitando l'acquisto di Ethereum. Alcuni analisti, come quelli di Steno Research, prevedono che gli ETF spot su Ethereum potrebbero attirare fondi tra i 15 e i 20 miliardi di dollari nel primo anno di trading. Questo potrebbe far salire il prezzo di Ethereum fino a 6.500 dollari per coin. Solana sta seguendo le orme di Ethereum. Diverse società, tra cui VanEck e 21Shares, hanno presentato domanda per un ETF spot su Solana. Anche se Solana non ha ancora un mercato dei futures regolamentato, cosa che potrebbe ostacolare l'approvazione dell'ETF, molti ritengono che questo non sia un requisito fondamentale. L'approvazione di un ETF spot su Solana potrebbe catapultare il suo prezzo a livelli record, potenzialmente raggiungendo i 1.000 dollari per coin se gli afflussi saranno consistenti. Gary Gensler, presidente della SEC, ha recentemente dichiarato che le applicazioni per Ethereum stanno procedendo senza intoppi. Questo potrebbe essere un segnale positivo anche per Solana, considerando che un'approvazione simile indicherebbe che anche. Solana viene trattata come una commodity piuttosto che un titolo. Chainlink ha annunciato una partnership con Fidelity International e Signum Bank per portare i dati del valore patrimoniale netto NAV on-chain. Questo è un passo significativo per la tokenizzazione dei fondi, rendendo i dati NAV più accessibili e sicuri grazie alla tecnologia degli oracoli decentralizzati di Chainlink. Questa collaborazione con Fidelity International, uno dei maggiori attori nel sistema finanziario globale, potrebbe aprire nuove opportunità per Chainlink. La tokenizzazione dei fondi rappresenta una delle principali tendenze emergenti, e Chainlink è posizionata strategicamente per capitalizzare su questa crescita. Polkadot ha recentemente pubblicato un rapporto di trasparenza dettagliando le spese di 87 milioni di token DOT. Questo ha suscitato discussioni nella comunità crypto, specialmente riguardo ai fondi spesi per il marketing e gli influencer. Nonostante alcune critiche, questa trasparenza è apprezzabile e dimostra come la comunità di Polkadot abbia votato per l'allocazione dei fondi. Il marchio Polkadot ha speso notevoli somme per sponsorizzare influencer, eventi sportivi e persino per brandizzare un jet privato. Sebbene queste spese possano sembrare esorbitanti, sono state approvate democraticamente dalla comunità attraverso la governance decentralizzata di Polkadot. Con la crescente regolamentazione e l'interesse istituzionale, il futuro delle criptovalute sembra promettente. L'approvazione di ETF spot su Ethereum e Solana potrebbe portare a significativi incrementi di prezzo, mentre le partnership strategiche di Chainlink e la trasparenza di Polkadot potrebbero rafforzare la fiducia degli investitori. È importante rimanere informati e vigilanti su questi sviluppi, poiché potrebbero influenzare in modo significativo il mercato delle criptovalute. Continuate a seguire il nostro canale per ulteriori aggiornamenti e analisi approfondite. Detto questo, grazie per averci seguito fino a questo punto. Non sprecare il prossimo volo cripto, grazie per essere stati con noi. Se volete rimanere aggiornati sulle ultime novità del mondo cripto e non sprecarvi una criptoavventura, schiacciate quel pulsante seguimi e attivate la campanella. Pronti a partire? Allora ci vediamo nel prossimo video.